Nell'eternità, morto per lei, al nostro figlio, lui è morto e risuscitato. Diamo già a lui la gloria, l'onore. A Viva dice così, qualunque cosa facciate, fatela e domonevi, non per uomini, ma per Dio. Tutto ciò che noi facciamo, facciamo per Dio. Tutto ciò, noi siamo morati oggi qua, siamo giro da casa nostra, sai, olha uno qua, a fatto, tutto sai do programma, per essere nella casa del Signore, non per nessuno, ma per Dio. Aleluia, questo Dio, che ha fatto una cosa, che ha creato il cielo e la terra, e questo Dio, che ha creato il cielo e la terra, lui ha lasciato la sua gloria, lui ha lasciato, sai, tutto il suo esplendore di gloria, e si ha fatto un uomo, un uomo di dolore, e che è tutto in questa terra, e ha sofferto per Dio e per Dio. E' da vita, e vita, e' da vita, a votanza. Aleluia, la parola del Signore di Giappone, onde ti vi dico, che il sono la risurrezione e la vita, che crede ne, anche se muore, e non so questo tipo di problema che tu stai passando, ma il sono, che il Gesù che è morto e il sono, che è risuscitato, per dar t'invito e per abudanza, con fare un uomo di osale, per risolvere qualsiasi di rischio e di problema. Aleluia! Dove Tia, lo Espirito Santo, che è la libertà. Dove Tia, lo Espirito Santo, che è la libertà. Tu vuoi fare la tua madre? Tu vuoi dire che sei santo, Senhor? Tu vuoi fare le cose di relazione e di amore, Senhor? Tu vuoi dire che io, solo, mi? Con la tua voca, con il tuo corpo, con il tuo corpo. Tu vuoi dire che oire che qua? Aleluia! Ove Tia, lo Espirito Santo, che c'è l'Аlinen, Su, lo Espirito Santo, che c'è l'Atena, di potenza, aleluia! Ove Tia, lo Espirito Santo, che c'è l'Atena! Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.